Anche quest'anno il Comune di Firenze ha aderito alla campagna Io non rischio. Firenze è da sempre impegnata nello studio dei rischi del territorio e nella loro prevenzione. La nostra città è particolarmente vulnerabile per quanto riguarda i rischi naturali e per quelli antropici. Il rischio prevalente rimane sicuramente quello idraulico, dato dal fiume Arno ma anche dai numerosi affluenti del reticolo minore che esigono particolare attenzione. A Firenze utilizziamo vari sistemi, in caso di allerta, in modo graduale secondo le circostanze, che prevedono la comunicazione attraverso l'informazione, la comunicazione stampa, social network, pannelli a messaggio variabile, sms, fino all'attivazione del sistema di allerta telefonica Firenze Alert. In questi anni, inoltre, abbiamo promosso iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione a livello locale, anche con la realizzazione di materiali dedicati a ciascuna tipologia di rischio. Informare è fondamentale, perché i cittadini informati sono cittadini consapevoli. Per diffondere le buone pratiche per la prevenzione dei rischi, obiettivo della campagna Io non rischio, è necessario attuare un'adeguata promozione della cultura della protezione civile. E condivido, infatti, le parole usate dagli organizzatori della campagna, prudenza e audacia. La prudenza e l'audacia non sono istanze inconciliabili o contraddittorie. L'una non nega l'altra, insomma. La comunicazione del rischio è un invito alla prudenza, ma anche all'audacia di informarsi in prima persona, farsi carico delle proprie responsabilità. Durante l'emergenza causata dal coronavirus, la protezione civile ha svolto un ruolo di cruciale importanza per la nostra città e per il nostro Paese. Solo a Firenze, grazie al grande lavoro dei volontari e dei dipendenti della protezione civile, siamo riusciti a consegnare a tutti i fiorentini le mascherine necessarie per affrontare l'emergenza. L'esperienza attraversata dal nostro Dipartimento Locale di Protezione Civile in questo periodo di emergenza sarà fondamentale per il contributo che questa continuerà ad offrire in termini di assistenza ai cittadini, oltre che di crescita della cultura della prevenzione e dell'autoprotezione. Vorrei infine approfittare per ringraziare di cuore la straordinaria rete di volontari per l'impegno quotidiano nei servizi di protezione civile e per l'organizzazione di questa giornata. Siamo distanti fisicamente, ma vicini socialmente, e abbiamo bisogno di un grande assembramento di idee e di valori. Un grande in bocca al lupo a tutti voi. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi, il 18 ottobre, è la giornata di Io non rischio, una giornata dedicata alla conoscenza e alla prevenzione delle buone pratiche di protezione civile e alla conoscenza anche dei rischi del nostro territorio. Qui con me c'è l'edizio filico, responsabile della protezione civile del Comune di Firenze, a cui faremo alcune domande per conoscere meglio il nostro territorio e i rischi che qui ci sono. Prima di tutto, grazie mille per essere qui con noi e per sostenere Io non rischio. Grazie a voi. La domanda principale è quali sono i rischi che ci sono nella Comune di Firenze? Allora, il nostro territorio è particolarmente vulnerabile sia per i rischi naturali sia per i rischi antropici. Ovviamente il rischio prevalente è il rischio idraulico, data la presenza dell'anno, e anche degli affuenti dell'efficolo minore, che in caso appunto di rischio idraulico, che mettono in seria pericolo e venerabilità nel nostro territorio. Durante questi episodi, la protezione civile non solo mette in atto il monitoraggio di questi eventi tramite procedure informatiche, ma va sul posto, con personale della protezione civile e volontari, a effettuare questi interruoghi puntuotili per evitare appunto di innalzamento delle acque. Ecco, mi fuoco nei panni del cittadino di Firenze. Se io volessi approfondire il piano di protezione civile e i rischi, ma anche capire un po' se la via dove abito è più soggetto o meno al rischio idraulico, cosa posso fare e dove posso andare? Bene, il piano di protezione civile è consultabile verso il nostro sito protezionecivile.comune.fi.it Lì i cittadini possono verificare quali sono le misure messe in atto e predisposte e pianificate per risolvere e affronteggiare i vari rischi che possono colpire un territorio. Ecco, oltre al piano di protezione civile, credo che per un cittadino sia importante, anche per un cittadino dove è l'area di attesa più vicina alla propria abitazione e al proprio luogo di lavoro. Ecco, anche queste informazioni dove le possono consultare e se c'è una mappa navigabile che mi può dare le indicazioni su come raggiungerla. Allora, anche queste informazioni possono essere liberate sul nostro sito, quindi protezionecivile.comune.fi.it nella sezione cartografia. All'interno c'è appunto la cartografia con la dislocazione delle aree di accoglienza che su Firenze è in totale il suo momento. Grazie mille a Letizia che ci ha dato queste preziose informazioni sul territorio di Firenze. La campagna Eono in Rischio continua per tutta la giornata di oggi. Vi invitiamo a continuare a seguire i canali del Comune di Firenze per restare aggiornati sulla protezione civile e su Eono in Rischio. Ciao ragazzi, io sono il Pedro e anche io non rischio, anzi, un rischio. Quest'anno purtroppo non potremmo fare la nostra solita grande... Quest'anno purtroppo non potremmo fare il solito evento dedicato a questa giornata così importante, ma ci ritroveremo tutti insieme in Maggio Mondo di Internet. Perché è importante sapere come comportarsi in caso di terremoto, in caso di soprattutto alluvione. E noi fiorentini ne sappiamo qualcosa purtroppo. Quando arriva il 4 novembre a Firenze qui noi fiorentini bisognerebbe chiudersi in casa, sale, parecchio sale di dietro, forni rossi, tocca a ferro a bestia. Dice perché? Come perché? Perché a Firenze ci sono state nel corso dei secoli parecchie alluvioni, no? C'è Larno ha fatto il birbone diverse volte, ma due volte in particolar modo ha un pochino esagerato. Nel 1333 e nel 1966. C'erano due alluvioni pazzesche. In che giorno successero? 4 di novembre. Tutte e due i 4 di novembre. Maremma Maiala. Concedimelo, Maremma Maiala. A distanza l'una dall'altra di 633 anni. Vedi ho fatto la sottrazione, ho fatto 1966 meno 1903 uguale a 133. E' avvenuta la distanza del... In particolar modo quella del 1966 fu particolarmente disastrosa. Firenze, ma la Toscana in generale venivano da diversi giorni di maltempo molto forti. La situazione precipitò perché le acque dell'Arno strariparono. I primi a essere colpiti furono i quartieri dell'Oltrarno, quindi San Nicolò, Santo Spirito, San Frediano. Poi la situazione degenerò anche in Santa Croce e in tutto il centro storico. Pensa, verso l'ora di pranzo l'acqua aveva toccato i primi piani delle abitazioni fino ad arrivare poi a 5 metri d'altezza. I danni furono pazzeschi anche a livello artistico. Si conta che andarono perse circa 1.400 opere d'arte e 14.000 libri. 14.000! I giorni dopo arrivarono soccorsi da tutta Italia, perché a quel tempo non c'era la protezione civile, quindi serviva gente sul campo con la pala a levare via l'acqua e tutta la mota. Fu uno dei gesti di solidarietà più belli della storia dell'umanità. Gli angeli del fango vennero chiamati questi ragazzi e spalavano. In memoria di quel giorno ci sono diverse targhe a giro per la città e ora io te le faccio vedere due. La prima che ti voglio far vedere è qua, in Piazza del Limbo. Ti ricordi qui dove si fece il video di culo con le 40 ore. Lassù in cima c'è la targa con scritto 4.66 m, l'acqua d'Arno arrivò a questa altezza. La seconda invece, in questa piuzzina qua puoi trovare tutte e due le targhe che ricordano le due alluvioni grosse. Quella più in alto è quella del 66, quella più grossa, più vecchia è quella del 33. Firenze ce la fece abbastanza velocemente a tornare alla normalità. Venne fuori anche quel lato sarcastico nostro, venne fuori quel lato a pigliar per il culo di continuo che ci sanno io e non ci si fa a togliere. Fuori da negozi per esempio c'era uno che scrisse bassi incredibili, prezzi sott'acqua. Uno fuori dalla sua trattoria scrisse oggi specialità in umido, per ditti no? Ma io voglio finire citando amici miei. Allora la scena è che loro sono qui no? Allora i piazzali a guardare la città, disperati no? Perché c'era i perozzi, ha lasciato l'amante, il figliolo e la moglie. Necchi ha i pesci nella macchina da caffè. Quindi sono qui disperati, parecchio tristi, quando a un certo punto in macchina si gira e gli fa... Ma che si fa oggi? Lo scende l'acqua! Bravo quello che ci vuole! E allora impariamo da loro, non dimentichiamoci mai chi siamo. Soprattutto in giornate come queste, si ricordano eventi tragici per la città. Noi siamo fiorentini, noi siamo Firenze, ci rialzammo qui giorno e ci rialzeremo sempre. Sempre col sorriso e sempre con la voglia di pigliar per il culo. E tu pigli per il culo? Tutti! Tutti! Alla tagliola a secco! Fai bravo! Grazie! 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 Grazie!